e bella a tutti ragazzi sono Cristian G77 e bentornati sul mio canale siamo qui oggi finalmente con l'episodio del Rush 9 dove dovremmo affrontare appunto il Rush 9 eravamo rimasti qui, ho incantato un po' di roba, mi sono venuti degli agenti abbastanza carini potete vedere li ho fatti tutti a livello 30 e la spada mi è venuta stra forte, acutezza 4, atterramento 2 l'arco vabbè è quello solito e non mi chiedete come ho perso la piume ma ho perso la piume quindi ho preso la flame, l'altra che avevamo trovato precedentemente allora direi di entrare, quindi già che ci siamo entriamo, sentiamo lo spawn come al solito cassa, non ci serve un cassa questa roba in realtà c'è, troviamo già tutto andiamo cosa? no 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 ascolta tu mi hai fatto fare mezz'ora incantare tutto per poi farmi svuotare tutto l'inventario sei stronzo cioè io dovrei affrontare il Rush 9 con l'armatura che mi da lui certo mi sembra una cosa giusta allora prendiamo tutto già che ci siamo perché se moriamo almeno porca puttana ci sistemiamo le cose come vanno messe avevo messo tutto in ordine dobbiamo rifare tutto vediamo la visione notturna boom cioè dobbiamo affrontare il Rush 9 con una spada di ferro un'armatura di ferro cioè per carità eh ce la facciamo però che cazzo ok allora siamo pronti a sto punto entriamo boom no 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 uno è morto vai diece boom dai si è schiantato allora io mi rifugio qua dietro boom vieni che ti ammazzo da sopra eh no non ci arrivi oh c'è buona pelle però creeper armor niente protezione dal fuoco canna da pesca che non ce ne facciamo assolutamente una sega protezione dall'esplosione ecco questa possiamo metterla subito allora saliamo io direi oh possiamo usufruire della canna da pesca per fare una bella cosa intanto saliamo su mettiamo su saliamo su dai coworkers ai terroristi ai terroristi ah perchè è venuto basta affran wreckare dai guard 4 muori Vabbè prendo questo ma non credo ci serva molto Dove bisogna andare? Sembra di qua Dovremo arrampicarci su Beh evidentemente dovremmo arrampicarci là in cima Mangiamo il nostro paninettolo No scala Perfetto Saliamo su Ok letti Abilitare scorrettezza nemici Scorrettezza nemici Abilitata Perfetto Vai Dentro Destro-sinistra Nei labirinti si va sempre a destra Sopra vetro Sotto vetro Sopra ghiaia Sotto lava Sopra lava Sti cazzi Di qua Di qua Io andrei di qua non per No c'è anche di qua Ma porca troia Ragazzi siamo morti se Stivalozi diamante Buono buono Dai ci sta ci stanno ci stanno Armatura diamante almeno qualcosina Cioè vorrei dire La mia protezione dal fuoco Ma non No 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 non esplodere Per favore ti prego Farò quello che vuoi Non esplodere perché Ragazzi se esplode è un disastro La lava va sotto Sopra E noi vogliamo C'è il vetro Moriamo Andiamo di qua Allora che vuoi che ti dica Guardi di qua No Madonna Ragazzi sono Delle mine vaganti Ok Però così ce la possiamo fare No ti prego Ti prego No Quale esplode No Oddio Ma che cazzo Ma questa è roba da malati Ma io come torno indietro E ci tocca andare avanti Ma mamma mia Non c'è niente Scala Andiamo Fanno davvero Tanto 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 Danno Tanto Gest Gambali Meno male che ci da qualche cosa di armatura Ma più che altro Non ci fanno danno a noi Fanno danno al terreno E il terreno è l'unica cosa che ci tiene in piedi In realtà Quindi facendolo esplodere Ci distrugge tutta l'esistenza del gioco Noi Allora Questo dovrebbe essere il coso sopra Quindi noi dobbiamo procedere da qui Ok Per fortuna non ci ha rotto i pezzi di vetro Qui però Non ci andrei molto sicuro con le cose Beh io direi di concludere questo episodio qui Nel prossimo episodio cercheremo di raggiungere la fine di questo rush Io vi ringrazio tantissimo per la visione Per il supporto che state dando a questa serie E noi ci becchiamo in un prossimo video Bella